Il sistema di alimentazione del carburante per i motori diesel si compone di alcuni elementi essenziali. Quali sono? Se osserviamo qui la figura possiamo notare ad esempio in basso a destra il serbatoio carburante, il filtro carburante, la pompa di iniezione e gli iniettori. Siccome il sistema di iniezione diesel, cioè pompa di iniezione e i iniettori, sono estremamente sensibili alla presenza di tracce d'acqua nel carburante, evitare che l'acqua raggiunga questi componenti, quindi che raggiunga sia la pompa di iniezione e gli iniettori, assume un'importanza critica per il corretto funzionamento del sistema. Inoltre i giochi tra le parti funzionali della pompa di iniezione e degli iniettori sono estremamente ridotti. Pertanto qualsiasi contaminazione derivante da acqua, ruggine o sporco ne provocherà il guasto. Per mantenere il sistema di alimentazione del carburante il più possibile privo di sporco e di umidità, il sedimentatore, qui come potete vedere si trova nella parte bassa del filtro, questo sedimentatore d'acqua e il filtro del carburante devono ricevere una corretta manutenzione. Il sistema del carburante con pompa di iniezione qui in figura è tipo WE. Invece nel sistema del carburante con pompa di iniezione del tipo in linea possiamo notare che il sedimentatore si trova subito dopo il serbatoio carburante e poi andrà ad alimentare il filtro e la pompa di iniezione e di conseguenza gli iniettori. La pompa di iniezione insieme a regolatore centrifugo forniscono la giusta quantità di carburante nella giusta fase a ciascun cilindro del motore. La pressione di iniezione del carburante generata dalla pompa varia a seconda del tipo di camera di combustione del motore. In genere va dai 200 ai 300 kg su cm² per la camera di combustione del tipo a iniezione diretta e da 80 kg a 150 kg su cm² per il tipo a precamera. Le pompe di iniezione si possono dividere in due tipi. Nel tipo WE, cioè a distributore, e nel tipo in linea. Qui in figura viene mostrata la sezione di una pompa WE. WE è l'abbreviazione del tedesco Fertiler-Einspritz, che sta a indicare una pompa a iniezione a distributore. Quindi quando parliamo di una pompa WE, stiamo parlando di una pompa a distributore. Qui la figura mostra quali sono i componenti principali di una pompa del genere. Abbiamo la pompa di alimentazione, la camma frontale, il variatore di fase, l'anello di travaso, la luce mandata, la valvola di mandata, lo standuffo della pompa, la luce di espirazione e l'elettrovalvola di intercettazione carburante. E infine, in alto, la leva di regolazione. Quest'altra figura invece mostra la sezione di una pompa di iniezione del tipo in linea. quali sono i componenti principali di questa pompa? Abbiamo la pompa di innesco, la pompa di alimentazione, l'albero a camme, il pignone di controllo insieme alla cremagliera di controllo, lo standuffo e la valvola di mandata.